Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In apertura ci occupiamo della situazione dell'istituto Denino Morandi di Sulmona perché gli ex docenti vanno verso la nuova assemblea e la mobilitazione ci dice tutto. Nel servizio Andrea D'Aurelio. La convenzione con il Proveritorato alle opere pubbliche che sta portando avanti la provincia dell'Aquila per i lavori di miglioramento e adeguamento sismico da seguire nel plesso scolastico del Denino Morandi di Sulmona. Non fa stare tranquilli gli ex docenti dell'istituto che restano su piede di guerra. Si va verso la mobilitazione ma tutte le iniziative da intraprentele saranno definite nel corso della nuova assemblea che è comitato del ramarte di 21 marzo alle ore 16 presso la sede della comunità montana Pelini a Sulmona. Alla riunione parteciperanno i docenti in pensione che sono tornati alla ribalta per la riapertura della storica scuola di via d'Andrea ma anche alcuni professori in servizio famiglie e studenti. Ci riuniremo ancora una volta per decidere quali passi combiere e soprattutto quali iniziative intraprendere da cui i prossimi giorni afferma il portavoce del comitato Pietro Di Paolo. Le ex docenti hanno chiesto al presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis un nuovo incontro dopo aver appreso del progetto dei due imprenditori della ditta Afi che a loro dire consentirebbe la riapertura della parte dell'edificio non sottoposta al sequestro in tempi brevi. In una nota di replica l'ex consigliera provinciale Roberta Salvati, il presidente delle Crescentis, conferma l'intenzione dell'ente provincia di ricorrere al proveritorato alle opere pubbliche che sarà soggetto attuatore per l'esecuzione dei lavori. Secondo le Crescentis la strada scelta permetterebbe lavori celeri, sicuri e di alta professionalità sull'edificio. Intanto la situazione del Denino Morandi è al centro delle polemiche. Continua il braccio di ferro tra il consigliere comunale di Sulmona Roberta Salvati e il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis. Ancora polemiche sul plesso scolastico Denino Morandi di Sulmona con il braccio di ferro infinito fra il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e l'ex consigliera provinciale Roberta Salvati, una sfida a colpi di interviste e comunicati stampa. Ha cominciato la Salvati definendo il presidente delle Crescentis Ponzio Pilato dopo l'accordo con il proveritorato alle opere pubbliche. Immediata la risposta del presidente della provincia che considera Salvati una persona in cerca di visibilità. Oggi a tornare all'attacco è ancora una volta l'ex consigliera provinciale. Trovo fuori luogo che De Crescentis mi accusi di essere in cerca di visibilità così come trovo fuori luogo parlare del suo tempo prezioso. Io vedo solo che dopo due anni di sua presidenza il Denino Morandi verse in uno stato di abbandono vergognoso. I commercianti, residenti, studenti, cittadini della zona dimenticati come la sede dell'istituto fa notare Salvati. Per quanto riguarda il suo tempo prezioso sarebbe doveroso venire di persona, spiegare quali impegni ha preso e portare a termine nei riguardi della città di Sulmona. Preziose sono le risposte da dare alla società che ripone delle speranze degli amministratori pubblici. Per il resto vedo nella missiva di De Crescentis nulla di nuovo rispetto alla classica risposta per mettere in cattiva luce la mia persona. In questi anni l'ho sentita spesso. È un modo subdro per mettere il bavaglio specialmente a una donna, prosegue la consigliera comunale di Sulmona, che invita a non abbassare l'attenzione sulle strade provinciali che hanno bisogno di interventi celeri. Che piaccia o no, io non mi lascerò intimidire, continuerò sempre a dire quello che penso e quello che vedo per i bene della città di Sulmona. Chi ossa Salvati. Adesso la cronaca, episodio di knockout a Pescara. Knockout game nelle notti della movida pescarese. La squadra mobile arresta due giovani di 20 e 27 anni con l'accusa di lesioni gravissime in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale Elio Bongrazio su richiesta del PM Barbara Del Bono. I due, identificati in base a filmati dei sistemi di videosorveglianza e a testimonianze, sarebbero autori di violente aggressioni avvenute nei giorni 11 e 19 febbraio scorsi nei pressi dei locali del centro storico di Pescara. Due ragazzi rimasti gravemente feriti dopo essere stati raggiunti da pugni al volto. Il GIP ha disposto i domiciliari per uno dei due arrestati coinvolto in entrambi gli episodi. Per l'altro, indagato anche per minaccia aggravata dall'uso di un coltello in un solo episodio, la custodia cautelare in carcere. Minacce al vicepresidente dell'Amba Confesercenti, Franco Liberatore. Minacce gravi per la riqualificazione del mercato di Piazza Garibaldi. Arriva la ferma condanna della CNA. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Una ferma condanna agli autori della lettera di minacce e un invito ad andare avanti con il progetto di ristrutturazione del mercato di Piazza Garibaldi. Gli ultimi visori di cronaca che hanno visto protagonista il vicepresidente di Amba Confesercenti, Franco Liberatore, non hanno lasciato indifferente il direttore provinciale CNA Agostino del Re, responsabile territoriale CNA di Sumona, Franco Ruggeri, che esprimono totale solidarietà ai rappresentanti locali dell'Amba e Confesercenti. È un clima surriscaldato in tutta quanta la nazione, francamente pensavamo che non potesse essere il caso di Sumona, invece anche in provincia e anche in realtà così parziali come quella nostra possono verificare episodi del genere. Nel condannare l'inqualificabile atto intimidatorio del tutto estraneo alla vita associativa Pellinia, la CNA dell'Aquila, osservano del Re Ruggeri, ribadisce con estrema fermezza la propria adesione al progetto di riordino atteso da oltre 20 anni, per cui ognuno dovrebbe profondere maggiore impegno per l'ottenimento di scopi comuni e interessi generali, ma con la massima rigidità e trasparenza. Effettivamente questo è un dato pericoloso e nello stesso tempo estraneo proprio al nostro modo di concepire la presenza in campo associativo e politico. Siamo francamente sconcertati, anche se qualche colpo di coda sulla ristrutturazione non mi sorprende, visto che già da una ventina di anni fa, con la quasi totalità degli espositori favorevoli, bastarono 4-5 voci dissenzienti per far saltare tutto quanto il problema. Contro la lettera di minacce sarà depositata presso i carabinieri di Sulmona una denuncia contro i gnoti. Il comune di Loreto a Prutino ha istituito un conto corrente in favore degli orfani della tragedia di Regopiano. Sono trascorsi due mesi dal giorno in cui una valanga travolse l'hotel nell'omonima località di Farindola. 11 superstiti, 29 le vittime, tra le quali 4 cittadini di Loreto a Prutino. Nadia Conciamesse, il marito Sebastiano Di Carlo, Piero Di Pietro e la moglie Barbara Nobilio, la giunta comunale di Loreto, ha aperto un conto corrente presso la locale filiale della Banca Popolare di Bari, su cui far confluire donazioni in favore dei cinque figli delle due coppie. I fondi saranno minutamente rendicondati secondo i principi della massima trasparenza amministrativa e derogati in misura uguale fra tutti i cinque ragazzi. Ascoltando le istanze dei nostri concittadini, spiega il sindaco di Loreto, Gabriele Strarinieri, abbiamo voluto aprire questo conto, un piccolo segno di vicinanza. Ringrazio sindora coloro che vorranno aderire. Provinciale 52, nella località Torrone di Sulmona, il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, incontra i residenti ed annuncia il cantiere aprirà a giugno. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Aprirà nel mese di giugno il cantiere per i lavori di rifacimento del manto stradale sulla strada provinciale 52 che incrocia la frazione Torrone della città di Sulmona. L'ha comunicato i residenti e gli amministratori del comune d'Introdacqua, il presidente della provincia dell'Aquila, Antonio De Crescentis, nel corso di un vertice che si è tenuto ieri mattina a Prato-La Peligna. La strada in questione è stata ultimamente oggetto di polemiche su tutti i fronti. A riaccendere il riflettore Onda DG sono stati proprio gli abitanti della zona che avevano minacciato, li depositarono esposto alla procura della Repubblica di Sulmona. Le vistose buche sul manto stradale hanno provocato, in effetti, non pochi problemi alla viabilità e alla sicurezza degli automobilisti. Solo nelle ultime due settimane si sono registrati ben tre incidenti. Ho sollecitato l'ufficio di ragioneria e ho avuto rassicurazioni circa la gara d'appalto e le somme a disposizione a ferma De Crescentis che riprende. I lavori cominceranno nel mese di giugno, ma in queste ore stiamo provvedendo a tamponare la situazione. Per gli interventi da eseguire sulla Provinciale 52 e sulla Morronese, la strada che incrocia la Abbazia Celestiniana, ci sono a disposizione delle casse provinciali 100.000 euro. Abbiamo chiesto al Presidente di venirci a trovare per assicurare la popolazione. D'altronde non è più possibile ritardare gli interventi. Non possiamo aspettare la tragedia, concludono i residenti. E adesso le elezioni amministrative di Pratola Peligna. Alessandra Tommassilli è pronta all'incontro con i cittadini. Domani ci sarà la presentazione ufficiale della candidatura. Sentiamo. Pratola Peligna ha bisogno di tutti. Sarà questo lo slogan che terrabattessimo. Domani alle ore 12, nel Teatro Comunale Pratolano, la presentazione ufficiale di Alessandra Tommassilli, candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative nel centro Peligno. Tommassilli è consigliere di minoranza dell'attuale amministrazione comunale, ma è la stessa che ha lasciato la fascia tricolore da vice sindaco. Pratola non ha bisogno di divisioni. Pratola non può e non deve avere colore politico. Pratola ha bisogno di tutti. Così aveva detto una settimana fa Alessandra Tommassilli, quando è uscita allo scoperto lanciando la sua candidatura. Domani nell'incontro con i cittadini tutto sarà più chiaro, a cominciare dai suoi sostenitori che l'accompagneranno per tutta la tornata elettorale. A Pratola, con messi di anticipo sulla tabella di marcia, si cominciano a delineare i primi scenari. Al momento in quattro sono in corsa per la poltrona del primo cittadino. Oltre alla Tommassilli, l'altra donna è Antonella Di Nino, ex vicepresidente della provincia dell'Aquila, la prima uscita allo scoperto. Nei giorni scorsi è sceso in campo l'imprenditore albanese Luan Nallulli, che sta definendo lista e programma elettorale. L'inconnita è tutta dentro il Partito Democratico, che correrà da solo e avrebbe già individuato il suo candidato sindaco, ma il nome al momento resta top secret. Da capire anche quando gli elettori pratolani saranno chiamati al voto. La data più gettonata al momento resta quella dell'11 giugno, ma notizie certe dal Ministero non sono ancora arrivate, nonostante nel centro peligno il clima elettorale si respiri. a pieni polmoni. E' quasi fatta per il piano sociale dell'ambito distrettuale peligno. Marcia indietro intanto di governo e regioni sul taglio dei fondi. Ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio. Conto alla rovescia per l'approvazione del piano sociale dell'ambito distrettuale peligno 2016-2018. Proprio ieri sarà approvata la sindacia e amministratori dei 17 comuni la bozza dell'accordo di programma. Si entra nella fase finale, quando mancano 11 giorni, alla fatidica scadenza del 31 marzo. La buona notizia arriva però dalla conferenza Stato-Regioni, che ha fatto marcia indietro, sul taglio al Fondo Nazionale e le politiche sociali e al Fondo per la non-autosufficienza. La riduzione che si paventava fino a qualche ora fa era di 261 milioni di euro. Tanto è bastato per far mobilitare l'assessore comunale e le politiche sociali Mariella Iommi, che nei giorni scorsi è stata in Regione, per verificare di persona la situazione. Sindaci e amministratori dell'ambito distrettuale peligno tirano tutti un respiro di sollievo. Lo spettro di un taglio di quasi due terzi del fondo aveva lasciato nell'incertezza la reale fattibilità di nuovi interventi, destando molte preoccupazioni in questa fase di chiusura della programmazione del nuovo piano sociale distrettuale, confessa il sindaco di Sulmona Maria Casini. Tali dunque scongiurati, il titolo fronte di Governo e Regioni, aggiunge Primo Cittadino, ha riportato serenità e ottimismo tra i sindaci rispetto alla conclusione della redazione di un piano sostenibile capace di rispondere ai bisogni degli utenti peligni. I contenuti del piano sociale distrettuale ormai sono definiti. La scorsa settimana era arrivato l'ok dei sindaci al profilo sociale locale. L'iter in ogni caso non è ancora concluso. La fase finale prevede il passaggio e l'approvazione nei rispettivi consigli comunali. Stavano per immettersi nell'autostrada A14 dal casello di Vasto Sud a bordo di un Opel Zafira. Quando sono stati fermati da una pattuglia della polizia stradale della locale sottosezione, nell'auto dei tre, gli agenti hanno trovato 4.000 ricci di mare, bombole, erogatori e mute per l'immersione. I tre pescatori sportivi provenienti dalla Puglia sono stati sanzionati per pesca di frodo e dovranno pagare 4.000 euro di multa. L'attrezzatura da sub è stata posta sotto sequestro. I ricci, dopo i controlli di competenza del servizio veterinario dell'ASL Lanciano Vastochieti, sono stati rigettati in mare dal personale dell'ufficio circondariale marittimo di Vasto. E torniamo adesso nel centro Abruzzo. Domenica 26 marzo ci sarà l'intitolazione della Casa della Musica al giovane Dino Palombizio. Ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio. E' tutto pronto a Prato la Pelinia per l'intitolazione della Casa della Musica a Dino Palombizio. Il giovane di Prato l'ha morto nel luglio del 2015 in un tragico incidente stradale sull'autostrada 1. La cerimonia si svolgerà domenica 26 marzo alle ore 16.30 presso la serie dell'Associazione Banda Città di Prato la Pelinia. La proposta arriva nel mese di dicembre scorso, nel corso del concerto dedicato a Dino Palombizio, direttamente dal sindaco Antonio De Crescentis. A distanza di tre mesi ecco che il progetto è diventato realtà. Nel corso della cerimonia di intitolazione il complesso bandistico eseguirà alcuni brani musicali. Un momento voluto dunque dall'amministrazione comunale, ma anche dalla comunità che ricorda Dino come un giovane esemplare. E' un ragazzo straordinario. Dino, 25 anni, aveva tanti progetti di vita. Voleva fare il medico proprio per aiutare la gente che soffre. Sogni e progetti che sono stati spazzati via in quel terribile incidente. Ma il suo paese resta orgoglioso del giovane pratolano, che appena in un quarto di secolo ha dato a tutti, con il suo carattere e i piccoli gesti, una lezione di vita. L'appuntamento è per domenica 26 marzo, alle ore 16.30. Imponente concerto per la chiusura della 64esima stagione concertistica della Camerata Musicale Sulmonese. Domani, domenica 19 marzo, alle 17.30, al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona, dedicato alla grande musica corale sinfonica. Sarà eseguita la cantata profana di Carl Orff, Carmina Burana. Per l'esecuzione di questa imponente opera saranno coinvolti circa 200 esecutori, tra 140 solisti e 60 orchestrali. Cori, Teatro Basso di Ascoli, Accademia Musicale di Pescara e orchestra sinfonica del Conservatorio Luisa d'Annunzio di Pescara, diretti da Pasquale Veleno. Una rara esecuzione, si legge in una nota che conclude una straordinaria stagione concertistica che ha raggiunto numeri importanti, quasi 10.000 presenze nei 28 eventi presentati dall'opera lirica all'operetta, al musical, ai concerti sinfonici e da camera ai prestigiosi solisti esplorando il variegato mondo della musica. I biglietti per il concerto di domani si potranno acquistare direttamente domani dalle 16.30 al botteghino del teatro. Il costo del biglietto è di 15 euro e per gli abbonati è valido il tagliando numero 21. L'Alexian Group di Santino Spinelli e l'Orchestra Europea per la Pace, diretta dal maestro Antonio Cericola, saranno tra i protagonisti del concerto previsto per le celebrazioni del sessantissimo anniversario dei trattati di Roma nel forum Cambiamo Rotta all'Europa, appuntamento nell'Aulamagna dell'Università La Sapienza di Roma, venerdì 24 marzo alle 19.30. Le musiche eseguite con l'orchestra appartengono al mondo rom e sono composizioni originali dell'abruzzese Santino Spinelli. E adesso lo sport, calcio a 5, la prossima settimana metterà l'abruzzo al centro della scena del calcio a 5 nazionale che approderà nella nostra regione con le sue massime espressioni a livello giovanile e di serie A maschile. Si svolgerà a Pescara dal 21 al 24 marzo la Final Eight Coppa Italia Under-21. Teatro della manifestazione sarà l'impianto del pallarigo piano che ospiterà tutte le gare della competizione tricolore. Oltre ai padroni di cassa del Pescara, le squadre Under-21 in corsa per conquistare la Coppa Italia sono Asti Calcio a 5, Block Stem Cisternino, Fenice Venezia Mestre, Caos Futsal, Lecco, Lollo Caffè Napoli e Regalbuto. Sempre nella città di Pescara ma presso il Palagiovanni Paolo II si disputeranno sabato 25 e domenica 26 marzo le semifinali e la finale della Coppa Italia di serie A che per il quinto anno consecutivo verrà assegnata nel capologo adriatico dove si sposteranno le squadre che avranno superato i quarti di finale in programma a Tolentino nella giornata di giovedì 23 marzo. Ai nastri di partenza anche i club abruzzesi Acqua e Sapone, Unigros e i campioni in carica del Pescara che lo scorso anno si aggiudicarono la Coppa Italia vincendo ai rigori la finale contro l'Asti davanti ad una splendida cornice di pubblico. E adesso il calcio con la presentazione delle gare delle squadre peligne impegnate nei campionati di eccellenza e promozione. Per quanto riguarda l'eccellenza i nerostellati Pratola domani ospiteranno a Lezio Ricci la capolista Martin Sicuro. Sfida con la capolista anche in promozione per la Sulmonese Ofena che allo stadio Pallozzi ospiterà il chieditore Alex, il servizio di presentazione su queste gare. Nella tredicesima giornata di ritorno dell'eccellenza spicca su tutti il big match di Pratola Peligna dove i nerostellati, terza forza del campionato, riceveranno la capolista Martin Sicuro. Le due squadre sono divise da soli quattro punti ma i pratolani avranno seri problemi nel reparto offensivo dovendo rinunciare alla coppia gol Palombizio e Isotti squalificati. Non saranno del confronto neanche i giovani Rossi e Mosconi anche loro appiedati dal giudice sportivo. Davanti saranno chiamati a dire la loro Cicconi e la Gatta. Il Martin Sicuro riguido di Fabio proverà a sfruttare le pesanti assenze in attacco dei nerostellati per mettere Fieno in cascina in classifica ed anche perché l'allenatore biancazzurro può disporre di una rossa al completo a parte Mariani e l'unico dubbio rappresentato dall'ex terzino della maceratese Donzelli. Di fronte ci saranno le migliori difese del campionato ma la squadra di Di Marzio dovrà prestare la massima attenzione in una partita che, per via delle troppe assenze, non fa stare tranquilli. Nella dodicesima di ritorno del girone B di promozione la Sulmonesi Ofena riceverà la capolista a Chietitore Alex. I teatini, in ogni domenica che passa, si avvicinano alla vittoria matematica del campionato ma la gara del Pallozzi si presenta comunque insidiosa. La squadra di Scandurra, pur se vede complicato l'obiettivo play-off, vorrà dare seguito alle ultime partite casalinghe con Raiano e Passo Cordone, centrando anche un pareggio che, contro la capolista, sarebbe un risultato prestigioso. Per la terza volta consecutiva, in casa è stato designato un arbitro di fuori regione. Sul Monesi Ofena, Chietitore Alex, sarà diretta da Enrico Guerra di Gumbio. Il Raiano sarà impegnato a Fossacesia in una partita che, non presentando insidie, potrebbe consentire alla formazione di Antinucci di mantenere la buona posizione in classifica. Nei Raianesi sarà assente lo squalificato Mascioli. E c'è attesa per la sfida al vertice tra Ovidiana e Capestrano. Lo scontro tra le due capoliste del girone A del campionato di terza categoria è in programma, oggi alle 15 allo Stadio Pallozzi. I Biancorossi, sulle ali dell'entusiasmo, hanno guadagnato la prima posizione nel turno di recupero della scorsa settimana, approfittando del pari tra Capestrano e Virtus Barisciano. L'Ovidiana, reduce da quattro vittorie consecutive, proverà a sfruttare il buon momento di forma per aggiudicarsi il match valevole per il primo posto assoluto. Nei padroni di cassa mancherà per squalifica il bomber Ezio Romanelli. A fronte delle quattro vittorie consecutive dell'Ovidiana, il Capestrano viene da due pareggi, ma le due squadre veleggiano in perfetto equilibrio. Entrambe hanno ottenuto 13 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. identico e inoltre il numero dei gol segnati, 36, mentre le due difese sono le migliori del girone. Se nei padroni di cassa mancherà Romanelli, il Capestrano proverà a colpire con il bomber Stefano Mattozza all'andata finì 0-0. Per questa gara di ritorno si prevede, come al solito, una buona cornice di pubblico. Per l'importante match, valevole per il primo posto assoluto, è stato designato il fischietto Aquilano Damiano Proia. Calcio di Rizio oggi alle 15 allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona. E dopo lo sport, prima di concludere, possiamo vedere i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio. La bella e la bestia, con proiezioni alle 18.20 e alle 21.10. Kong School Island alle 18.20 e 21.10. Moonlight alle 18.10 e 21.10. Bene, è tutto per questa edizione del giorno nel nostro telegiornale. Grazie della cortesa attenzione. Prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20. Ci salutiamo con il meteo. Buona giornata a tutti voi. Sulla nostra regione condizioni di cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità, mentre sul settore centro-orientale e al ridosso dei rilievi è previsto un graduale rinforzo dei venti dai quadranti occidentali. Dalla serata, annuvolamenti più consistenti potranno interessare soprattutto la marsica, ma non si prevedono fenomeni di rilievo. Poche le novità nel corso della giornata di domani, in cui ci saranno ancora annuvolamenti diffusi, intervallati da schiarite, temperature al di sopra delle medie stagionali e venti dai quadranti occidentali. Temperature in ulteriore aumento, anche sensibile, sul versante orientale. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali, con occasionari rinforzi sulle zone montuose e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico. Mare generalmente quasi calmo, poco mosso. Grazie a tutti.